Quindi, confesso la mia difficoltà a predicare o a insegnare a dei pastori, quindi state tranquilli, non lo faccio. Non perché ho paura, come diceva il pastore stamattina, di essere giudicato, ma perché credo che è più giusto riflettere. Quindi voglio riflettere ad alta voce, aprire il mio cuore e la mia mente per dialogare con voi nella speranza che mentre riflettiamo lo Spirito Santo, così come fece con Elia nella caverna sul monte Oreb, possa sussurrare in maniera dolce e sommessa al vostro orecchio. Perché il tema che è davanti a noi, il tema scelto per questa conferenza Vieni Spirito Santo è un tema particolare, è un tema di desiderio, di bisogno, di confessione da parte nostra. Quando noi diciamo Vieni Spirito Santo, stiamo confessando al Signore che abbiamo bisogno del suo aiuto. Quindi adesso insieme invochiamo lo Spirito Santo. Al di fuori di ogni forma di spettacolarizzazione o di show, così come vediamo in tanti contesti, e grazie a Dio, questo è un ministero che non cerca strategie per fare cassa, perché molti devono ricorrere agli spettacoli nelle chiese perché devono battere cassa. Ho detto sono delle riflessioni, perciò me le sono appuntate tutte, e quindi spero che quello che in questi giorni, da quando sono stato ufficialmente incaricato di questo momento, siano frutto dello Spirito Santo, dicevo la difficoltà, la complessità di parlare dello Spirito, eppure noi siamo pentecostali. I pentecostali dovrebbero avere una certa familiarità, mariniera e ironica, noi dovremmo essere pappa e ciccia con lo Spirito Santo, così come siamo con i nostri cagnolini. Però io mi accorgo, non so voi, che la cosa è più complessa di quella che sembra. Quando parlo di pentecostali non mi riferisco esclusivamente a noi, ma parlo in termini generici, a una platea che oggi in Italia conta diverse centinaia di migliaia di credenti. Però noi siamo pentecostali e come ministri dovremmo ricercare sempre e soltanto di annunciare la parola di Dio con franchezza. Non dovremmo correre dietro le emozioni. Ma così come Pietro e Giovanni dichiararono davanti al Sinedrio, Atti capitolo 4, verso 29 e 30, pregare con le loro parole. Ed ora, Signore, concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo Santo Figlio Gesù. Sia questa la nostra preghiera. Ma se facciamo un salto all'indietro nella storia della Chiesa, quando la Chiesa cominciava a formalizzare la dottrina, nel terzo secolo, un uomo, un teologo che voi probabilmente conoscete di nome, non so se qualcuno di voi nel terzo secolo già esisteva, lui, avevo pensato anche a Ald, Origene Origene lamentava con gli altri pastori l'incertezza della dottrina sullo spirito e sono passati più di 17 secoli e in alcuni ambienti teologici si fa fatica a parlare dello spirito e cercheremo di capire perché però in altri contesti ce ne sono alcuni che sono ossessionati che vedono lo spirito santo dappertutto che se si sposta una tenta è lo spirito che se si muove una sedia è lo spirito che qualsiasi cosa, anche se arriva una mosca sopra il naso, l'ha mandata lo spirito si passa da un eccesso all'altro eppure la scrittura ci ricorda che lo spirito grazie a Dio continua a muoversi a suo piacimento nessuno di noi potrà mai dire allo spirito santo dove andare quando andare e cosa fare però possiamo fare una cosa un'altra preghiera quella di Asaf Salmo 80 verso 18 facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome quante volte chiediamo Signore manda un risveglio e il risveglio è racchiuso come significato proprio in queste parole di Asaf facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome ma come pentecostali pensate che lo spirito santo ce l'abbiamo solo noi c'è qualcuno che qui pensa che chi non è pentecostale non ha lo spirito di Dio ho detto ho rifletto ad alta voce e leggo in Romani al capitolo 5 al verso 5 l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello spirito santo che ci è stato dato dove vi è l'amore di Dio è frutto dello spirito santo dove vi è lo spirito santo deve esserci l'amore perché se non c'è l'amore c'è fantasia c'è emozione c'è shoe c'è business all'inizio del 1900 è cominciata la nostra storia come movimento Aldo c'eri nel terzo secolo c'eri anche all'inizio del 1900 il movimento pentecostale alle sue radici gli agronomi parlerebbero dell'humus la parte fertile del terreno la parte in quale testo voi che siete pentecostali atti atti capitolo 2 ma quella storia non è un evento e basta non è successo là e basta ma il fatto che noi oggi siamo qui nel 2022 possiamo testimoniare che l'evento dell'Alto Solaio è successo tante altre ancora e può succedere anche questa sera se piace al Signore la pentecoste non è una data di un lontano passato ma è qualcosa che si rinnova ed è la testimonianza della presenza di Dio in ogni tempo ciascuno di noi potrebbe raccontare se avesse il tempo la sua esperienza il suo battesimo io non ho più dimenticato il mio voi il vostro ve lo ricordate dovete ricordarvelo non potete dimenticarlo però da quando avete fatta esperienza da quando è cominciato il movimento pentecostale è passato del tempo è il passato il passato più di qualcuno canta non conta più il passato è passato a noi conta il presente e allora io vi domando oggi cosa sta accadendo c'è lo spirito nella nostra vita è lo spirito in mezzo a noi è lo spirito nelle nostre comunità qualche decennio fa riflettendo anche sul pentecostalesimo alcuni studiosi avevano pronosticato la morte di Dio avevano detto di qui a breve con la secolarizzazione Dio morirà questo è quello che pensavano gli uomini questo è quello che pensavano i sapienti oggi gli stessi studiosi gli stessi sociologi della religione stanno dicendo che oggi si assiste ricordatevelo questa espressione alla pentecostalizzazione del cristianesimo lo spirito santo è uscito dalle chiese pentecostali lo spirito santo sta invadendo ogni ambito del cristianesimo perché i vari ambiti del cristianesimo si sono resi conti che gli unici cristiani che sono vivi nella fede che sono zelanti che non si fermano davanti a niente sapete chi sono? siete voi fatevi un applauso sono i pentecostali a distanza di 120 anni dalle loro origini noi siamo ancora qui a dire che lo spirito santo è all'opera siamo ancora qui a testimoniare che la nostra esperienza può diventare l'esperienza di qualcun altro e allora gli studiosi hanno tratto il dato direbbe qualcuno e hanno stabilito questo la pentecoste è passaggio obbligatorio allora non si tratta di festeggiare la pentecoste non si tratta di mettere sul calendario una pentecoste per tutti ma si tratta di lasciare spazio allo spirito santo perché molti teologi dello scorso secolo parlavano dello spirito santo come del figliastro in quella che è la trinità di Dio Gesù è il figlio e lo spirito santo era il figliastro era un Dio minore un Dio di seconda fascia perché invisibile intoccabile ricordate la storia di Pietro l'apostolo tre anni con Gesù dorme con lui mangia con lui la sua storia è la nostra storia noi spesso ci ricordiamo la parte finale che poi Giovanni racconta nel suo Vangelo quando dopo il rinnegamento è il tre volte Pietro mi ami tu il Signore gli dirà pasci miei agnelli pasci le mie pecore quindi gli affida di pastorare la chiesa ma durante i tre anni che Pietro è stato con Gesù era un Pietro preparato al ministero dubbioso istintivo qualche volta reazionaria qualche altra volta scettico è addirittura Satana sempre Pietro poi c'è stata la croce il momento più alto del ministero di Gesù ma sotto la croce Pietro è scappato Pietro aveva già rinnegato non ha avuto il coraggio anzi dopo la croce Pietro cosa fa? se ne torna a pescare e quando ha deciso di mollare ogni cosa chissà forse c'è qualche pastore questa sera che in questi giorni sta pensando di mollare ogni cosa e di tornare a pescare questa è la sera in cui Gesù viene vicina alla tua barca e ti dice che cosa hai pescato che stai pescando e poi ti porta sull'alto solaio atti degli apostoli vi ricordate che dopo che lo spirito ha riempito quel luogo che cosa accade che il reazionario il dubbioso il pescatore quello che non voleva più fare niente che non ne voleva sapere si alza all'impiedi il più ignorante di tutti è reso abile dalla pienezza dello spirito trova il coraggio che non aveva trovato fino a quel momento mette da parte i giudizi dei 120 mette da parte i giudizi della gente di Gerusalemme e comincia a predicare e a raccontare che quanto profetizzato dal profeta Gioele quel giorno si era adempiuto e che cosa aveva profetizzato Gioele che lo spirito sarebbe stato sparso sui 120 sull'alto solaio sono un pessimo insegnante vedo Franco che dice ma no no hai ragione Franco Gioele aveva detto che lo spirito su ogni sopra ogni carne Gesù aveva assicurato i discepoli io non vi lascerò orfani ma è necessario che io me ne vada perché vi mandi il consolatore e il consolatore arriva e Pietro lo vede e si rende conto che le parole che Gesù aveva lasciato erano vere vi ricordate io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente com'è presente Gesù in mezzo a noi com'era presente Gesù dopo la crocifissione la resurrezione quando due o tre sarete radunati nel mio nome io sono in mezzo a loro ma qualcuno ha mai visto comparire Gesù in mezzo a noi forse dobbiamo riscoprire una relazione con lo spirito in termini di personalità spesso senza accorgercene trattiamo lo spirito come una forza così come dicono gli amici testimoni di Geova come un interruttore che si deve premere la luce che deve comparire siate ripieni di spirito santo incoraggiava Pietro agli Efessini e quando faceva questo incoraggiamento diceva non ubriacatevi ma siate ripieni di spirito e qui c'è un'altra riflessione siamo circondati da ubriachi siamo circondati da gente che beve vin dolce e dice che è spirito santo lo spirito non ci fa perdere mai la nostra lucidità lo spirito santo non ci fa perdere mai l'autocontrollo lo spirito santo può possederci ma non saremo mai dei posseduti lo spirito santo è Dio e rispetta la dignità di ciascuno di noi ecco perché noi ridevamo davanti a chi parlava di santa risata di versi di cani di dolor di pancia e attribuiva queste cose allo spirito santo al al quale io oso chiedere perdono per quanti hanno affermato queste cose voglio brevemente con voi attualizzare su questa riflessione un brano biblico perché parlando di ubriachi oggi a tavolo ho bevuto solo acqua per evitare di toccare il vino e quindi credo sia opportuno restare all'acqua e quando penso all'acqua non posso non pensare che è al pozzo della donna samaritana quindi se volete leggiamo insieme i versi dal vangelo di giovanni al capitolo 4 dal 21 al 24 dove gesù parla e dice alla donna donna credimi l'ora viene che né su questo monte né a gerusalemme adorerete il padre voi adorate quel che non conoscete noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei ma allora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il padre richiede dio e spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità io ho preso quattro espressioni né su questo monte né a gerusalemme per dire a me che lo spirito non ha mai conosciuto limitazioni territoriali lo spirito santo non conosce le barriere dei nomi nazionali mi dispiace per gli stessi di prima ai quali ricordo che lo spirito santo è universale nell'agire e nessuno si scandalizzi è ecumenico nel diffondersi dove la parola ecumenico fa riferimento al termine oicumene nel senso che lo spirito è ecumenico perché si muove su tutta l'umanità io spanderò il mio spirito sopra ogni carne ogni forma di settarismo di pregiudizievole preclusione contrasta l'opera dello spirito e paolo diceva lo contrista egli resta nonostante quello che noi vogliamo pensare colui che secondo prima corinzi capitolo 12 distribuisce i suoi doni come egli vuole noi adoriamo quel che non conoscete noi adoriamo quel che conosciamo diceva gesù alla donna vorrei sbagliarmi però forse nella nostra spiritualità sembra che ci interessiamo più della nostra salute spirituale anche di zelo missionario come abbiamo sentito anche prima e non ci preoccupiamo molto dell'unità un qualcosa che sta ritornando che ho ascoltato questa mattina anche nella riflessione e la preghiera sacerdotale di gesù dovrebbe essere ogni giorno davanti a noi in momenti come questi sembra che noi siamo uniti posso anche togliere il sembra siamo uniti ma poi ritorniamo alle nostre realtà quando siamo insieme riusciamo ad essere uniti quando siamo nelle nostre realtà sembra che a distanza si faccia fatica a mantenere l'unità perché forse veniamo presi dai problemi locali e invece noi dovremmo lavorare e ad operarci per mantenere sempre questa unità l'ora viene disse Gesù alla samaritana anzi è già venuta anche con lo spirito ci preoccupiamo troppo di quello che può succedere domani delle previsioni di dopo domani di quello che a livello mondiale si sta organizzando di quello che può accadere e nel nostro piccolo per guardare a quello che accade domani non ci godiamo l'oggi ci ci incischiamo nell'attesa dell'adempimento delle promesse del segnale Gesù ha detto che egli ritornerà è indiscutibile ma nell'attesa del suo ritorno io oggi ho delle cose da fare ho una missione da compiere l'ora non viene è già venuta io non devo aspettare lo spirito lo spirito è già arrivato nella mia vita è per lo spirito che ho potuto confessare che Gesù Cristo è il Signore altrimenti non lo potevo fare è per lo spirito che ho piegato le mie ginocchia e ho arreso la mia vita al Signore è per lo spirito che ho fatto l'esperienza del parlare in lingua ma è un'esperienza fine a se stessa se dopo non passo dal parlare in lingua al parlare alle genti e poi l'ultima parola estratta Dio è spirito guardate nel Vangelo di Giovanni questa è una delle più grandi rivelazioni a noi oggi sembra una cosa banale Dio è spirito però io ve la giro lo spirito è Dio wow lo spirito santo è Dio e noi spesso sembra che lo comandiamo vieni vai fai lo spirito santo è Dio è una delle persone della trinità noi dovremmo toglierci i calzari quando ci relazioniamo con lo spirito perché quasi sempre poi nella Bibbia leggiamo spirito santo e non è casuale l'aggettivo che accompagna il termine spirit due parole nella Bibbia abbondano per parlare di spirito nell'antico testamento è ruà nel nuovo è pneuma ma nell'antico testamento non c'era ancora l'idea dello spirito Dio anzi a volte leggiamo lo spirito del Signore come un agente di Dio il soffio lo spirito che alleggiava sulla terra il primo verso della Bibbia ci parla prima che di Dio ci parla dello spirito quando ci dice che nel principio Dio creò la terra era in forme e lo spirito avvolgeva la terra tutta poi abbiamo pneuma nel nuovo che qualche teologo ha detto il termine indica la presenza di una persona pneuma non è l'aria nei nostri pneumatici pneuma non è il fondamento della scienza dello pneumologo quando parliamo di aria nei polmoni di aria nei pneumatici parliamo di aria per qualcuno aria fritta quando parliamo del pneuma spirito santo non parliamo dell'aria parliamo di Dio nelle mie riflessioni vorrei che facessimo un po' di attenzione in più a non trattarlo come dicevo prima come un interruttore non togliamo a Dio la sua personalità relazioniamoci con lui come tale qual è l'esperienza che Pietro ha fatto si è alzato ha cominciato a predicare atti 1 8 quando Gesù chiede ai discepoli di aspettare la promessa cosa dice loro quando lo spirito verrà su di voi voi riceverete dunamis potenza e poi dopo che avete parlato in lingua che avete saltato che avete gioito che vi siete rallegrati e alzate la vostra voce voi che conoscete la scrittura più di me e mi sarete testimoni basta no continua la scrittura in Gerusalemme poi in tutta la Giudea in Samaria e fino all'estremità della terra dopo che Pietro si alza in atti 2 e predica a quelli di Gerusalemme e diverse migliaia si convertono il libro degli atti ci dice al capitolo 8 che Filippo va a predicare a Samaria che Pietro e Giovanni vanno a Samaria a controllare la predicazione di Filippo e a rendersi conto se avevano ricevuto lo spirito santo e quella gente parlava in lingue al capitolo 11 Pietro che era da solo e ha lasciato che il suo orecchio udisse la voce dolce e sommessa che i suoi occhi si aprissero sollecitati dallo spirito guardate quanto è strano lo spirito santo va da Pietro e gli porta un lenzuolo con gli animali dentro che strano modo di parlare da parte dello spirito un'immagine e Pietro dice ma che vuoi mi stai tentando guardate a volte lo spirito ci parla e noi pensiamo che sia un'opera del diavolo mi stai tentando mi stai mettendo davanti cibi che io come giudei non mangerei mai quindi spesso siamo noi ad opporci allo spirito santo è soltanto una mente disposta e un cuore arreso al signore poteo dire Pietro ammazza e mangia lo spirito potrebbe venirci a solleticare e dirci che quello che stiamo pensando che quello che stiamo facendo che quello che stiamo progettando che quello che stiamo organizzando non è quello che lui pensa non è quello che lui sta progettando non è quello che lui ha deciso di fare in Gerusalemme in Giudea in Samaria fino all'estremità della terra dall'Italia ve lo ricordate sempre il motto la visione di questo ministero dall'Italia per l'Italia l'Europa e il mondo forse è tempo che quello che abbiamo custodito forse è tempo così come accadde per atti di ritornare ad andare in casa in casa di strada in strada tornando agli inizi del 1900 ti ricordi sempre Aldo cosa accadde dopo le manifestazioni dello spirito nelle chiese i credenti invasi dallo spirito santo battezzati che parlavano in lingua e cosa fanno tornano ai loro paesi vanno di casa in casa non vogliono fondare una nuova chiesa non avevano idea di quello che è diventato poi il movimento pentecostale desideravano che gli altri conoscessero quello che era accaduto a loro una cosa so che prima ero cieco adesso ci vedo ecco la testimonianza voi riceverete potenza per essere testimoni fratelli sorelle se non stiamo più testimoniando ciò che Dio ha fatto nella nostra vita probabilmente abbiamo parcheggiato lo spirito santo lo abbiamo chiuso in una delle camerette della nostra vita e allora forse così come accadde a Pietro perché Pietro dopo essere andato a casa di Cornelio andò a quelli di Gerusalemme che la pensavano come la pensava lui e cercò di giustificarsi però disse una parolina magica disse ai fratelli di Gerusalemme lo spirito santo mi ha spinto lo spirito santo mi ha costretto che Dio ci doni il discernimento di capire quando dobbiamo muoverci per lo spirito di Dio e allora forse non dobbiamo dire vieni spirito santo ma dobbiamo dire costringimi costringimi spirito santo vado alla conclusione ogni costrizione dello spirito potrà andare sì oltre il nostro modo di pensare ma ricordatevi questo lo spirito non andrà mai contro la parola scritta nulla che è fuori dalla scrittura è da parte di Dio perché Dio è verace mantiene fede alla sua parola Dio non è bugiardo e Dio non si contraddice ma ricordiamoci anche che Pietro andò da Cornelio per portare l'Evangelo la salvezza secondo i piani di Dio però Paolo consegnerà a Imeneo e a Alessandro nelle mani del diavolo perché avevano fatto naufraggio nella fede scrive al Timotio nella prima lettera e avevano anche bestemmiato allora fratelli lo spirito ci chiama anche a tagliare dritto non compromessi chi è contro Dio non può essere insieme a noi lo spirito è santo è il termine santo ci ricorda quello che dice l'Apocalisse chi è santo continui a santificarsi lo spirito di Dio è spirito di santificazione ho già udito qui che lo spirito è anche spirito di libertà ora il Signore scriveva Paolo nella seconda lettera ai Corinzi ora il Signore è lo spirito e dove è lo spirito del Signore? vi è libertà concedetemi qualche altro minuto di attenzione ma di che libertà parliamo? della libertà che chiunque può fare quello che vuole? si tratta di una libertà interiore morale e anche etica la libertà che ci ha donato lo spirito è la libertà dalla schiavitù del peccato e ci ha donato un'autonomia per scegliere se peccare o non peccare ai Galati Paolo scriveva voi siete stati chiamati a libertà soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne la libertà a cui siamo stati chiamati è la libertà decretata dalla legge dello spirito ai romani Paolo scrive perché la legge dello spirito quindi c'è la libertà dello spirito fratelli ma c'è anche la legge dello spirito la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte così come umanamente non c'è libertà senza la legge dove non c'è legge non c'è libertà la legge dello spirito guida il credente serio nei sentieri della parola la legge dello spirito porta il credente fuori dal mistero e dal misticismo e lo conduce nella rivelazione nel disvelamento della volontà di Dio affinché possiamo camminare nei suoi passi alle origini del risveglio pentecostale ma anche quando mi sono convertito trenta e più anni fa i fratelli più anziani senza cultura utilizzavano queste espressioni io lo spirito quanti avete sentito espressioni del tempo fratello io tengo lo spirito santo erano tollerabili perché non si sapevano esprimere oggi noi diciamo lo spirito santo a noi lo spirito santo ha il controllo sopra di noi non prendetelo come un segno perché non avevo bisogno di questo tempo guardate ce l'ho scritto qui questa riflessione è andata oltre le previsioni già lo sapevo e quindi non mi prolungo si tratta di un modesto esordio fatto da un modesto oratore su un tema troppo alto anche per le nostre menti però spero che qualcuno di voi sia grato a Dio per queste sollecitazioni perché nonostante la mia incapacità lo spirito santo continua a fare miracoli e li fa soltanto lui chiudo con due citazioni una è del professore teologo vittorio subiglia che disse nel 66 ogni volta che la chiesa fa dello spirito un profugo la chiesa diventa vagabonda ve lo ripeto ogni volta che la chiesa fa dello spirito un profugo la chiesa diventa vagabonda davanti a espressioni del genere dovremmo rattristarci perché realmente davanti a noi lo scenario è particolarmente complicato stavo per dire però io ho lo spirito però lo spirito mi ricorda una cosa per la quale dormo sereno differentemente da qualche politico io dormo e sto sereno perché la mia vita è nelle mani di Cristo un altro uomo di chiesa disse questo davanti agli scenari tragici e tristi ricordatevi fratelli sorelle lo spirito c'è e c'è anche oggi c'è come al tempo di Gesù e degli apostoli c'è e sta operando ti sembrerà strano arriva prima di noi lavora più di noi e meglio di noi non dobbiamo seminare lo spirito non dobbiamo svegliare lo spirito ma dobbiamo imparare a riconoscerlo accoglierlo assecondarlo assecondarlo fargli strada andargli dietro c'è e lui lo spirito non si è mai perso d'animo rispetto al nostro tempo al contrario sorride danza penetra investe avvolge arriva là dove noi mai avremmo immaginato di fronte alla crisi della nostra epoca dove la gente non riconosce più l'invisibile il trascendente e si parla della crisi di Dio lo spirito sta giocando nell'invisibilità e nella piccolezza la sua partita vittoriosa perché lo spirito vince sempre noi siccome ci piace vincere facile giochiamo con lo spirito santo Dio vi benedica